E bentrovati, questo è un breve video di introduzione all'architettura neoclassica. Cioè in realtà parleremo non soltanto dell'architettura neoclassica, ma anche di quello che avviene subito prima e subito dopo. Iniziamo vedendo qualcosa dell'architettura del 1700. Il 1700 è in realtà un anno molto importante, perché in questo secolo si compie il passaggio all'età moderna. Questo secolo è caratterizzato dallo sviluppo dell'illuminismo, dalla rivoluzione francese, e dal punto di vista architettonico sicuramente ancora il barocco ha un ruolo centrale. Il barocco in realtà viene chiamato rococò, anche perché si abbandonano forse in parte tutti gli studi spaziali che in quel momento erano stati fatti per dedicarsi soprattutto alle decorazioni. Quindi l'architettura rococò è proprio un'architettura ricca di decorazioni. Le decorazioni diventano un elemento importante. E queste architetture spesso vengono realizzate anche in modo ripetitivo, cioè architetture anche spesso simili una dall'altra. Ma da un altro lato però, oltre allo sviluppo del rococò, che è sicuramente centrale, lo sviluppo della razionalità tipica dell'illuminismo porta anche un pochino al recupero della classicità, gettando le basi per l'architettura neoclassica. Nel 1700 segnaliamo l'architetto Filippo Iovarra, che opera a Torino, che opera elementi, elabora degli elementi classici e barocchi allo stesso tempo. Cioè il suo barocco è un barocco che insomma incomincia già a avere un richiamo all'architettura classica vera e propria. Infatti si ispira a Michelangelo e a Borromini allo stesso tempo, per aspetti differenti. Infatti prendendo per esempio la Basilica di Superga, ha sempre a Torino questa basilica elementi classici, come sicuramente il portico d'ingresso, ma anche come la cupola, che richiama in modo evidente la cupola di Michelangelo per San Pietro a Roma. Altro edificio importante di Iovarra è la palazzina di caccia di Stupinigi vicino Torino, dove anche qui c'è questa commistione tra uno stile barocco, la sala centrale da dove si sviluppa tutto il progetto ha una forma ellittica, quindi tipica del barocco, ma con la monumentalità, la simmetria e la classicità degli altri elementi che completano l'edificio. Venendo al Neoclassico, il Neoclassico si basa su alcuni punti fondamentali, che sono innanzitutto nel Settecento a Roma si riaprono, cosa che era già stata fatta nel 1400, si riaprono vari scavi, quindi scavi al centro di Roma, nel Foro Romano, e successivamente scavi anche a Pompeia d'Ercolano. Grazie a questi scavi realizzati in varie parti e soprattutto a Roma, a metà del Settecento si diffonde in tutta Europa la mota del Grand Tour, cioè erano dei tour, dei viaggi di studio, che artisti da tutte le parti d'Europa compivano soprattutto a Roma per studiare le rovine e tutti gli elementi classici. Questo è il periodo di Napoleone, che nel suo immaginario celebra sicuramente la Roma imperiale, la sua ambizione era quella di realizzare un impero della stessa importanza dell'impero romano, e quindi questo anche a livello artistico ed architettonico si ripropone. E quindi in generale gli artisti si riscoprono dei puristi e cercano, nello studio dell'arte antica e anche della Grecia classica, nello studio appunto di questi elementi, di ritrovare la purezza delle forme e la classicità. Le caratteristiche dal punto di vista architettonico sono sicuramente sviluppo di masse architettoniche classiche, quindi dove c'è un grande uso della simmetria, della regolarità delle forme, gli ordini architettonici classici. Gli elementi che caratterizzano, molto usati nell'architettura neoclassica, sono i pronai, come nei tempi greci, porticati e colonnati, le cupole, e soprattutto nel periodo napoleonico l'utilizzo degli archi trionfali proprio per celebrare come avevano fatto gli imperatori romani, così faceva Napoleone le sue grandi conquiste in giro per l'Europa. Bene, adesso per il resto di questa presentazione, di questo video, utilizzerò del materiale, dalle presentazioni svolte, realizzate sugli stessi argomenti dalla professoressa Emanuela Pulvirenti, che sono pubblicate nel sito didatticarte.it, un sito molto ricco di materiale sulla storia dell'arte e la storia dell'architettura. Riassumendo, il neoclassicismo inizia verso la metà del Settecento, e diciamo che si conclude con la fine dell'impero napoleonico, e c'è una grande ripresa dell'arte classica, soprattutto dei suoi principi di equilibrio, di proporzionità, di eliminazione, soprattutto di ogni eccesso, eccessi che nel barocco erano stati molto utilizzati. Il massimo teorico fu Winkelmann, importanti abbiamo detto le scoperte archeologiche di Pompei e di Ercolano, ma c'è questa grande ricerca della perfezione tipica degli artisti romani e degli artisti greci, ma non tanto, dice Winkelmann, per imitare gli antichi, ma soprattutto come un riferimento che non è soltanto un riferimento estetico, cioè di cose da copiare, ma proprio un riferimento etico, perché i classici interpretavano proprio questi principi di bellezza, di armonia, che nel mondo reale non esistono, secondo Winkelmann. Oltre a Pompei e di Ercolano si studiano i tempi di Pestum, e Villadriana a Tivoli, e in questo periodo si sviluppano anche molti nei maggiori musei europei, soprattutto Londra e Parigi, si riempono di reperti che venivano direttamente dalla Grecia e che erano proprio espressioni della classicità greca. Ulteriormente, Giambattista Piranesi, con le sue incisioni sulle rovine romane, contribuisce a diffondere la conoscenza dell'arte classica. Dal punto di vista architettonico, segnaliamo l'edificio della Scala di Milano, realizzato da Giuseppe Piermarini, dove possiamo vedere, sia dalla riproduzione antica che da una foto attuale, di come questo edificio ha tutti gli elementi dell'architettura classica, quindi vengono abbandonati tutti gli eccessi tipici del barocco, e si ritorna a un edificio dove c'è una armonia, una simmetria, un utilizzo di forme regolari, ordini architettonici utilizzati in modo corretto, che sono tipici dell'architettura neoclassica. Altro elemento da segnalare è la piazza del plebiscito a Napoli, viene realizzata questa piazza con un colonnato semicircolare, dove c'è la chiesa, che è il punto centrale e focale della piazza, caratterizzata proprio da un'architettura estremamente neoclassica, cioè con questo porticato che sembra proprio sopraelevato con delle scade, che sembra proprio un tempio greco, e da questa cupola che prende spunto in modo molto proprio evidente dal pantheon di Roma. Bene, diciamo così successivamente all'architettura neoclassica, o in parte in sovrapposizione all'architettura neoclassica, la ricerca dei valori nazionali, che era un po' presente in molte parti di Roma, porta alla riscoperta anche di altri modelli, quindi non soltanto il modello classico, ma anche il modello romanico, codico, rinascimentale, quindi si parla di architettura neoromanica, neocotica e addirittura anche neorinascimentale, che sembra quasi un controsenso, perché già l'architettura rinascimentale era un riprendere, era un'arte classica. E oltre a questo nasce l'eclettismo, cioè l'architetto eclettico era l'architetto che era capace di padroneggiare tutti gli stili, quindi di riuscire a realizzare opere nei vari stili, utilizzando tutti i vari stili. Questo si sviluppa soprattutto in molte parti d'Europa di pari passo con l'affermarsi della classe borghese. Alcuni esempi di questi edifici, diciamo così, eclettici, sono sicuramente il teatro dell'Opera di Parigi, il Palazzo della Giustizia di Roma, detto anche il palazzaccio, e anche la facciata di Santa Maria del Fiore a Firenze, che è una chiesa gotica, con la cupola di Brunelleschi, quindi rinascimentale, ma che la facciata non fu mai realizzata, fu realizzata proprio nel 1800 in stile neoromanico, quindi non in uno stile originale, ma proprio grazie alle teorie che in questo periodo avevano preso piede. Successivamente all'eclettismo, o parallelamente all'eclettismo, con l'avvento della rivoluzione industriale, ci sono i primi studi di materiali innovativi. In questo caso si parla dell'architettura degli ingegneri, dove si cerca di realizzare edifici con i nuovi elementi strutturali. Uno degli esempi, i primi esempi, è il Crystal Palace, realizzato a Londra per un'esposizione universale del 1851, che è una gigantesca serra di ferro e vetro, quindi sperimenta anche la possibilità di realizzare questi edifici in modo rapido, e poi volendo anche di smontarli, diciamo così. L'esempio sicuramente più evidente è quello della Torre Eiffel, anche questa realizzata a Parigi per l'esposizione universale, fu costruita tra il 1887 e il 1889. Alta 324 metri, è costituita da 18.000 pezzi, che erano imbullonati o saldati tra di loro. Nell'idea dei realizzatori, questa torre doveva essere poi smontata, demolita, ma poi questo non fu mai fatto per una serie di motivi, e oggi è sicuramente l'elemento caratterizzante del paesaggio urbano di Parigi. Anche in Italia si cerca di realizzare alcune opere con i nuovi materiali, in particolare vengono realizzate delle gallerie urbane, nelle principali città italiane. Le più famose sono sicuramente la galleria Vittorio Emanuele II a Milano, dove c'è questa cupola centrale in ferro e vetro e anche delle volti a botti sulle vie principali d'accesso. Con lo stesso sistema anche la galleria Umberto I a Napoli, la galleria Alberto Sordi a Roma, chiamata così oggi, e la galleria Mazzini a Genova. Diciamo che questo è il panorama architettonico, è il fermento architettonico, su cui poi si svilupperà l'art nouveau e l'architettura moderna successivamente. Bene, vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima occasione.